Siamo tornati in Italia nella benissima Catania e proprio con Catania continua la nostra italiana! Quindi un applauso, un applauso, molto, molto! In questi mesi sono stati tantissimi paesi, Argentina, Venezuela, Venezuela, Spagna, Francia. A proposito, in Francia parlavamo sia in castesano e in francese. Vediamo un po' se mi ricordo qualcosa. Bonjour Catania! Comment ça va? Allora bene, francese? Mianchi, mianchi! Trova per questo. Adesso che siamo in Italia, i miei amici... ...in Italia, con Spagna e cercheranno di parlare in italiano! ...e cercheranno! Vediamo bene che il professor Federico abbia un po' in un prossimo lavoro. Ma ora siete pronti? ...e il mio arrivamento inizia con te!